In questo numero, sessualità e DNA, studio italiano svela i segreti nascosti nei geni. A Milano il primo trapianto di fegato da donatore a cuore fermo. Intramenia, ricavi in calo per i medici nel 2013. E ancora, Lorenzin, in tempi brevissimi la legge sulla medicina difensiva. Infezioni ospedaliere, più 20% di rischi con il ricovero in una camera a 4 letti. Il vero o falso di questa settimana parla della sinusite. E per concludere le news scelte per voi dalla redazione. In un futuro non troppo lontano. Il nostro DNA determinerà tutto di noi. E se non fosse un futuro troppo lontano, quello immaginato dal film Gattaca? Se il DNA fosse come una sfera magica che predice tanti aspetti, anche quello del comportamento sessuale? A queste domande è approvato a rispondere uno studio internazionale pubblicato sulla rivista Sexual Medicine Review. Secondo il lavoro nel DNA sono nascosti molti segreti della nostra sessualità. Dall'età della prima volta, alla propensione a sposarsi, passando per la capacità di mantenersi fedeli nel tempo al proprio partner. Fino all'orientamento sessuale, all'identità di genere o al rischio di soffrire di eiaculazione precoce. Ma è davvero così? Il DNA è come una sfera magica? L'abbiamo chiesto ad uno degli autori della ricerca. Il rettore dell'Università Torvergata di Roma, Giuseppe Novelli. Intanto non è magica, ma è una sfera chimica e come tale deve rimanere. Può predire, tra virgolette, molti aspetti del nostro comportamento, non solo sessuale. Lo studio che noi abbiamo fatto è verificare proprio questo, cioè andare a vedere quanto pesano i geni diversi nelle scelte sessuali, nell'orientamento sessuale. Dobbiamo sempre considerare che tutti i geni che influenzano il nostro comportamento sono sempre il risultato di un'interazione che non è solo genetica. Cioè i geni, l'ambiente, la casualità, il nostro modo di essere e tutto il resto. Dunque i geni, come sottolinano gli autori dello studio, sono l'hardware che regola le scelte e i comportamenti sessuali di base. Ma hanno un peso enorme anche l'educazione, l'esperienza, gli incontri, che rappresentano il software o, per essere più precisi, i fattori epigenetici. Che cos'è l'epigenetica? Sono i vestiti che indossano i geni. Allora, i vestiti però dipendono da come sono i geni. L'epigenetica è importante, ma dipende sempre da quello che loro vanno a rivestire. L'intervista integrale al Rettore Novelli sarà trasmessa in uno speciale che andrà in onda su Doctors Life, il canale 440 della piattaforma Sky, dedicato ai medici e ai farmacisti. Primo trapianto di fegato da donatore a cuore fermo in Italia. L'operazione è stata eseguita all'ospedale Niguarda di Milano su un uomo quarantenne, con un organo prelevato da una persona in arresto cardiaco. Si tratta di una tecnica finora mai usata nel nostro paese a causa dei 20 minuti, 5 nel resto d'Europa, che la legislazione italiana prevede debbano passare da quando il cuore smette di battere alla dichiarazione del decesso. Un periodo di tempo lungo nel quale il fegato rischia di compromettersi, di non essere più utilizzabile, spiegano gli esperti. La svolta è legata all'applicazione di una metodica, la circolazione extracorporea ECMO, impiegata normalmente nella rianimazione dei pazienti. È stata così mantenuta la temperatura corporea del donatore ed è stata garantita l'ossigenazione degli organi, ritardando il danno da ischemia. Dopo una progressiva crescita registrata fino al 2009, i ricavi per prestazioni libero-professionali intramurarie subiscono una battuta di arresto ed iniziano a diminuire dal 2010, passando da 1.265 milioni di euro del 2009 a 1.152 milioni di euro dell'anno 2013. È quanto emerge dalla relazione sullo stato di attuazione dell'esercizio delle attività libero-professionali intramurarie relative al 2013. Il conto annuale fornisce anche una quantificazione dell'indennità di esclusività percepita dai dirigenti medici e sanitari, che nel 2013 è pari a circa 1.296 milioni di euro, con un valore medio pro capite di 10.753 euro, indeciso calo rispetto al 2010. Il calo dei ricavi corrisponde dunque rispettivamente ad una spesa pro capite di 21 euro l'anno per il 2009 e di 19 euro l'anno per il 2013. La serie storica dei ricavi aziendali associati all'intramenia evidenzia un brusco cambiamento di tendenza a partire dal 2010, tanto che nel 2013 si registra una riduzione del 6,2% rispetto ai ricavi del 2012. Assicuro il mio impegno è quello del Governo per una piena collaborazione affinché venga licenziato in tempi brevissimi un testo normativo, consapevole che negli ultimi anni il fenomeno della medicina difensiva ha assunto dimensioni tali da determinare un impatto negativo sul fondo sanitario, di recente stimato in oltre 13 miliardi di euro, con ricadute negative sull'assistenza ai cittadini. Ad affermarlo è il Ministro della Salute Beatrice Lorenzin rispondendo al Question Time alla Camera sulle iniziative contro la medicina difensiva alla luce delle proposte elaborate dalla Commissione consultiva istituita al Ministero della Salute. La Commissione ha individuato alcune soluzioni normative e ha aggiunto la Lorenzin il 6 agosto, ha trasmesso il documento che è stato poi inviato ai Presidenti delle Commissioni Sanità di Camera e Senato. Responsabilità del personale sanitario dipendente dell'SSN convenzionato in termini di responsabilità extra-contrattuale. Riduzione dei termini di prescrizione del reato da 10 a 5 anni. Inversione dell'onere della prova a vantaggio del professionista sanitario. Limiti all'azione di rivalza della struttura sanitaria sul singolo professionista, oltre ad una specifica definizione della colpa grave del sanitario. Questi alcuni dei punti presenti nel documento, oltre alla configurazione di una fattispecie autonoma a titolo di reato di lesione o omicidio colposo, il rafforzamento dell'obbligo di assicurazione delle strutture pubbliche, case di cura private e degli operatori sanitari, e l'istituzione dell'albo dei periti qualificati dove i giudici potranno attingere. Una simulazione al computer della diffusione delle infezioni ospedaliere in un reparto ha svelato che le camere singole sono più sicure di quelle con quattro letti, perché in quest'ultime il rischio che i virus si propaghino, attraverso la contaminazione delle mani degli operatori, è del 20% più alto. A sviluppare il modello matematico alla base della simulazione è stata l'Università di Leeds in Gran Bretagna. I recenti progressi nella simulazione al computer hanno permesso agli scienziati di modellare il flusso di aria in movimento in tempo reale in risposta agli spostamenti di medici e infermieri nei reparti ospedalieri. Secondo gli autori del lavoro, il valore terapeutico delle camere con un solo letto è noto, tuttavia l'evidenza scientifica è ancora scarsa. Ora siamo in grado di migliorare i programmi di pulizia degli ospedali. La parola passa agli specialisti, che dovranno avvalersi dei dati della ricerca per progettare ospedali ad hoc, in grado di frenare l'epidemia di infezioni in nosocomiali, spesso causa di ricadute o di ricovero di nuovi pazienti. È vero che anche i bambini possono soffrire di sinusite? È vero, anche se la pneumatizzazione dei seni prenasali avviene in relazione all'età. Mal di testa e dolore alla fronte, sono sintomi tipici della sinusite? Vero, ma possono essere anche confusi con una cefalea muscolotensiva. È vero che la diagnosi di sinusite è solo strumentale? Falso. La diagnosi di sinusite è fondamentalmente clinica e deve essere avvalorata da una valutazione endoscopica nasale e da un'attacca dei seni prenasali. È vero che le infezioni possono causare la sinusite? Vero. Integnavo per sinusite un'infiammazione dei seni prenasali, alla cui base è sempre collegata un'infezione. È vero che la sinusite può essere anche cronica? Vero. La sinusite, se non si risolve spontaneamente o dopo terapia medica nell'arco di un mese, può tendere a cronicizzarsi. La sinusite può essere curata solo con le innalazioni? Falso. La terapia della sinusite si avvale della terapia locale, con farmaci vasocostrittori e antianfiammatori locali, con una terapia medica sistemica, con antianfiammatori, steroidei e non steroidei e, eventualmente, qualora tutte queste terapie non fossero state sufficienti, alla risoluzione della patologia con una terapia chirurgica. È vero che oggi esistono nuove tecniche chirurgiche per la sinusite? Vero. La tecnologia ci ha messo a disposizione notevoli strumenti mini-invasivi che consentono, uniti a una maggiore visione legata alle ottiche, la possibilità di intervenire in sedi specifiche con il minimo trauma e con il massimo ingiovamento e la risoluzione della patologia stessa. È vero che si può guarire dalla sinusite cronica? Falso. Dalla sinusite cronica, purtroppo, si guarisce il più delle volte solamente con un trattamento chirurgico. Fortunatamente, la minima aggressività chirurgica necessaria oggi ne consente un decorso rapido e senza dolori. La spesa per visite e indagini di controllo in oncologia raggiunge 400 milioni di euro l'anno, 10 volte di più dei costi attesi. A fargli evitare la cifra contribuiscono la prescrizione di troppi esami inutili o inappropriati e la scarsa comunicazione fra oncologo e medico di famiglia. Per porvi il rimedio per la prima volta è stato firmato a Roma un patto fra specialisti, medici del territorio e pazienti, che disegna un nuovo modello di cura. Per i 3 milioni di italiani che hanno combattuto col tumore e si sottopongono al follow-up, cioè alle visite di controllo successive alla fase acuta della malattia, Si prevede il passaggio dall'ospedale al territorio con la possibilità di tornare dall'oncologo nel caso vi sia il sospetto di recidiva. In questo modo sarà risparmiato almeno il 30% delle risorse da investire in terapie innovative. Olio di oliva non solo per insaporire i cibi, ma anche per prevenire il cancro al seno. Secondo uno studio spagnolo condotto su 4282 donne tra i 60 e gli 80 anni con un alto rischio di malattie cardiovascolari, il condimento più amato dagli italiani, utilizzato in dosi extra all'interno di un regime alimentare che segue le regole della dieta mediterranea, sarebbe infatti responsabile di una riduzione del 68% del rischio di ammalarsi di questa neoplasia rispetto al gruppo di controllo. Chi associava le noci invece presentava una riduzione non significativa. La ricerca fa parte del trial PREDIMED, prevenzione con dieta mediterranea, condotto per testare gli effetti dell'alimentazione del sud Europa sulla prevenzione primaria e sulle malattie cardiovascolari. La difficoltà a deglutire compresse e capsule è un problema diffuso che riguarda persone di ogni età e può rappresentare un ostacolo importante alla corretta adesione alle terapie farmacologiche prescritte dai medici. Uno studio condotto in Germania e negli Stati Uniti su 2000 pazienti mostra che il 33% delle persone ha l'abitudine di rompere le compresse prima di deglutirle, mentre un altro 17% le schiaccia e poi le scioglie in acqua. Questa è dimostrazione della portata del problema, già comunque all'attenzione delle aziende farmaceutiche. Mettere in tavola i cibi sbagliati, troppa carne rossa e molte bevande zuccherate e quantità insufficienti di verdura, cereali, frutta fresca e secca è la scelta che uccide prima del tempo il maggior numero di persone nel pianeta, aumentando l'incidenza di malattie cardiovascolari, ictus e diabete. In particolare l'ipertensione, killer diretto numero uno, ha tre fattori di rischio chiave proprio alla dieta scorretta, insieme alla vita sedentaria e all'obesità. A riscrivere la classifica dei sicari della salute è un maxistudio statunitense che analizzando i dati raccolti in 188 paesi dal 1990 al 2013 ha aggiornato il Global Burden of Disease del 2010, considerato il report internazionale più autorevole sulle cause di malattia. Raccontare il proprio rapporto con il tumore per affrontarlo meglio e vincere il tabù della malattia sono gli obiettivi del concorso letterario Federica, la parola della vita, lanciato dall'Associazione Italiana di Oncologia Medica. Fino al 31 gennaio 2016 persone malate di cancro, i loro familiari e gli operatori sanitari del settore oncologico potranno inviare i loro scritti in proso a poesia a premio letterario Federica, chiocciola, fondazione, iom.it. In tutta Italia nel 2014 i nuovi casi di tumore sono stati 365.500, circa mille al giorno sotto linea Stefania Gori, segretario nazionale dell'IOM. Nel battezzare l'iniziativa gli organizzatori hanno scelto di ricordare Federica, una ragazza che ha combattuto contro la sua malattia con determinazione e ottimismo, continuando a scrivere, sognare, lavorare e progettare. In Sicilia, Calabria, Puglia e Basilicata, il consumo medio di sale si attesta oltre gli 11 grammi al giorno, contro valori inferiori a 10 grammi in tutte le altre regioni, una differenza attribuibile alle diseguaglianze di ordine socio-economico tra le diverse aree geografiche del nostro paese. Lo dimostra uno studio dell'Istituto Superiore di Sanità. Grazie per averci seguito e alla prossima puntata!